Sicuramente un apporto di persone capaci, che hanno le idee chiare sul futuro della regione, che si impegneranno per la massima determinazione e che contribuiranno per il resto del centro-destra a proseguire questa avventura. Sì, ma l'ho già detto, non è un problema che mi conga. Abbiamo passato cinque anni in cui c'erano altri rapporti di forza, ma hanno sempre operato senza alcun tipo di frizio. La nostra strategia è quella di parlarsi, confrontarsi, trovare la soluzione migliore quando ci sono delle questioni particolarmente complicate. Nessuno di noi ha mai avuto la volontà di prendere la regna. Siamo sempre comportati da chi aveva l'unico consigliere, chi ne aveva 27-28, ne ho perso nulla. L'importante sono le idee, non sono i numeri. No, in realtà i consiglieri si riusciti dalla Lega non comprimano che non si incantenderanno con la società. Certo. Questo bisogna chiederlo alla segretà del Ciclietto. Grazie. 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 Grazie.